Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Secondo Berlino Putin potrebbe attaccare l'Europa già nel 2024 e quanto leggiamo ad esempio su Repubblica, rotocalco turbo mondialista, voce del padronato cosmopolitico, anche se a onor del vero la notizia si legge su tutti i principali e più venduti quotidiani nazionali e non solo nazionali. Insomma continua l'arte della propaganda, arte della propaganda con la quale cercano di far montare incontenibilmente la rabbia verso la Russia di Putin, che già da tempo è oggetto di una vera e propria damnazio, una convenzio ad excludendum, in forza della quale si prova, more solito, a far passare la Russia di Putin per il male sulla terra, per il nemico della pace, per la principale forza del male, cercando in maniera sinergica di santificare, glorificare e celebrare la civiltà dell'hamburger come forza del bene e della pace, una visione manichea e altresì caricaturale e fumettistica che tuttavia nell'immaginario di molti continua ad avere una certa forza e una certa tenace resistenza. Si tratta, lo sottolineiamo, di una visione altamente ideologica, si tratta, va sottolineato, di una narrativa che ha un unico obiettivo, quello di rinsaldare a dismisura il consenso verso la civiltà neoliberale e global americana, una civiltà che, a ben vedere, più che giudicare tutti gli altri, dovrebbe essa stessa sedere al banco degli imputati e non solo da ora, già da tempo, considerato il fatto che gli Stati Uniti d'America, lungi dal promuovere la pace, sono soltanto il braccio armato della globalizzazione turbocapitalistica.